Tra l'altro ti volevo far... c'è Valerio Conti, che è mio amico e autocopywriter italiano, che appena ha scritto una mail interessante in questi giorni, che mi ha fatto riflettere ed è un argomento su cui poi vorrei soffermarmi anch'io, perché è stato molto interessante quello che ha scritto. Ok. E ha fatto questo paragone e ha detto, guadagnano di più gli insegnanti o i personaggi illustri, i personaggi famosi? E la risposta è i personaggi famosi. Perché questo? O le celebrità, lui parlava, no? E perché? Le celebrità guadagnano di più proprio perché riescono a generare delle emozioni. L'attore guadagna di più perché genera delle emozioni. Il calciatore guadagna di più perché genera delle emozioni. Pensare proprio a questo esempio che è lampante. Insegnanti, attori. Guarda che divario pazzesco che c'è, eppure il valore che danno magari è identico. C'è il valore che dà un insegnante, è identico al valore che può dare un attore. Però l'attore in più come valore aggiunto ha questo dell'emozione. E' quello di dare l'emozione alle persone. Quindi le persone sono disposte a dare alle persone che sanno emozionare, che sanno generare emozioni, molto più denaro. E non dobbiamo pensare che la vita dell'attore sia proprio così lontana e distante da noi. Anche noi, nel nostro piccolo, senza diventare Brad Pitt, prima che hai citato Brad Pitt della situazione, però possiamo creare o impegnarci per creare e generare delle emozioni negli altri. Sì, sì. Ma guarda, hai detto delle cose molto interessanti. Non solo emozionare, perché l'attore, potremmo dire che guadagna anche di più un formatore classico. Certo. Come un Roberto Re o un Merenda o qualche altro formatore italiano internazionale, no? Un Robbins. Sono quello che dà come valore, o anche noi nel nostro piccolo, quello che diamo come valore è un valore importante, così come è molto importante il valore che danno gli insegnanti. Poi c'è la capacità di promuoversi, anche, che è quello che insegni tu, quello che insegnano anche altri formatori, cioè la capacità di fare marketing, cioè di creare il mercato, di mettersi sul mercato. Il problema, che è una cosa che mi fa un po' dispiacere, ma in realtà sono tanti e sempre di più i professionisti che capiscono questo e quindi vengono condizione digitale e quindi si formano insieme con noi, che sì, devi imparare a far marketing e promuovere e promuoverti, però, come dicevi tu, devi essere capace di fare come un attore famoso, cioè riuscire a promuoverti generando emozioni. E quindi promuoverti senza che la gente ti spenga, senza che spenga il video e non ti guardi. Ma invece tante volte si vedono tanti formatori marketing, ad esempio, bravissimi, sia in Italia che all'estero, che insegnano a fare chiaramente i video, no? Insegnano a promuoversi, un po' come era anche sponsorizzazione rapida, quindi il tuo corso. Il fatto che tu sei arrivato a questa consapevolezza e questo è l'aiuto che appunto stiamo dando anche alle tue persone, cioè devi fare dei video, ma questo non vuol dire fare dei video da schifo. Devi essere capace a fare dei video. Ci puoi arrivare con l'allenamento, ci puoi arrivare con il talento, oppure ti è necessario allenarti, perché se sei una persona bloccata, una persona che non riesce a farsi capire, una persona che non riesce a modulare la sua voce, quindi dare modulazione, non essere monotona, allora è chiaro che il tuo video non può avere successo, o ne avrà molto, molto poco. In realtà quello che dobbiamo allenare, e quindi mi collego alla domanda di prima, sono due aspetti. Uno, quello che ci permette la possibilità di emozionare, cioè la espressività. Quindi ci sono degli elementi espressivi, espressività è uguale, traduciamo, capacità di generare emozioni. Traduciamola così, quindi espressività uguale capacità di generare emozioni. Questa capacità di generare emozioni è formata, creata, causata da un utilizzo consapevole, quindi una buona padronanza di quelli che si chiamano elementi espressivi della voce. Quindi il volume, il tono, il tempo e il ritmo. Seconda area da migliorare della nostra voce, che incide in maniera impressionante sull'efficacia comunicativa, è la pronuncia, cioè come pronunciamo i suoni, come pronunciamo l'italiano, se abbiamo una corretta dizione oppure no. Altrimenti le persone possono essere distratte e soffermare di più il caso su come diciamo le cose dal punto di vista della corretta pronuncia oppure no, che magari può essere appunto diversa rispetto al modo che utilizzano, invece che sul messaggio stesso o sull'emozionalità. Grazie. Grazie. Grazie.